Andare a scuola in bici è un modo per aiutare l'ambiente e la salute. Anche il comune di Rossano Veneto ha incentivato gli alunni dell'istituto comprensivo a spostarsi pedalando nel tragitto da casa a scuola e premiando a fine anno chi ha percorso più strada in bicicletta. Una cinquantina i riconoscimenti assegnati ma su tutti spicca il vincitore che ha sorpreso tutti con un gesto di generosità. Nel momento in cui abbiamo proclamato il vincitore e abbiamo portato la bici e lui è arrivato, ha chiesto il microfono e pensavamo volesse ringraziare e invece ha detto guardate io la bici io ce l'ho, sono fortunato perché me l'hanno regalata anche da poco e ho deciso di regalarla a un mio compagno un po' meno fortunato di me che avrebbe voluto partecipare ma non ha avuto la possibilità di farlo. Un esempio da seguire anche per gli adulti. Da primo cittadino innanzitutto grazie per l'esempio che ci hai dato perché è un esempio che ha dato a tutti che però è anche il segno di come stanno cambiando le nuove generazioni. Generazioni di ragazzi che stanno crescendo con uno spirito di condivisione, di fratellanza e anche di generosità che sicuramente le generazioni passate avevano in modalità diverse. L'altruismo che questo giovanissimo ha dimostrato è stato spontaneo e sostenuto da una comunità educante. Importantissimo il lavoro che viene fatto dai nostri formatori e dagli insegnanti. Noi abbiamo la fortuna di avere un istituto comprensivo molto attento anche sul tema della gentilezza e del rapporto proprio tra i ragazzi e devo dire che quando si lavora bene poi i risultati si vedono.